Cronaca di un anno di macerata resiliente, anche il bilancio del 2018 dell'amministrazione Carancini non poteva non partire dai fatti del 30 gennaio e 3 febbraio scorso dalla morte di Pamela al raid di Luca Traini. Proprio il primo cittadino sottolinea che se la città non avesse avuto fondamenta solide sarebbe uscita disintegrata da tutto quello che è successo. Il concetto di resilienza, il concetto di forza interiore capace anche di risalire dopo tutto ciò che è successo e poi concretizzato attraverso gli obiettivi amministrativi è stato un elemento che ci ha convinto a identificare questo incontro con questo concetto. Il resoconto dell'amministrazione parte dal resoconto della sua giunta, dal consumo zero del territorio di Paola Casoni alla vicinanza alle società sportive di Canesin. 3.500 le persone che si sono avvicinate ai servizi sociali di Mari Camarcolini, mentre per gli esari il 2018 è stato l'anno del trasporto pubblico. Federica Curzi punta il focus su partecipazione centricivici, mentre Caldarelli dà importanza al tempo, tempo come cura, come presente e come sospensione. I lavori pubblici di Narciso Ricotta sono oltre alle grandi opere, manutenzioni, luci e recupero, mentre Stefania Monteverde chiude con la cultura divisa tra sferisterio, teatro, musei e festival. Insomma, un grande lavoro di squadra. 8 assessori di 330 persone, di 6 dirigenti, che è un lavoro quotidiano che fa sorridere ma qualche volta fa anche tristezza perché magari tutto quello che uno vorrebbe fare non riesce a fare e quindi da questo punto di vista è stato davvero un lavoro di grande squadra. Il 2019 sarà l'ultimo anno di mandato denominato dal sindaco l'ultimo miglio. Noi dobbiamo essere felici perché lasceremo una grande eredità, lasceremo una città certamente migliore e speriamo di poter lasciare anche grazie al 2019 qualche ulteriore sorpresa ma che avrà sempre la connotazione di qualità della vita per una città che sicuramente oggi è tra le prime in Italia.